Presentati i progetti per il servizio civile con la Caritas Diocesana di Andria. Scopriamo i dettagli nel servizio di Luca Ceciriello. Sono tre i progetti di servizio civile universale della Caritas Diocesana di Andria per il 2023 e si suddividono in tre aree nelle cinque sedi di Andria e Minervino Murge, 15, i posti a disposizione. Come precisano gli organizzatori, valori di questa opportunità sono vivere concretamente la prossimità incontrando persone e camminare verso la maturità. Come si accede ai progetti di servizio civile della Caritas Diocesana di Andria? Ecco, le modalità di accesso sono comuni a tutti quanti i progetti di servizio civile. Basta andare sul sito delle politiche giovanili e selezionare il bando 2023 e poi esce tutta una schermata con menu a tendine ed è semplice seguire la scelta o la conoscenza, meglio, prima del progetto al quale si vuole partecipare. Poi bisogna essere muniti di speed in modo tale che sempre seguendo le procedure vengono richieste per l'accesso allo speed in codice fiscale in modo tale da poter inserire tutta quanta la documentazione necessaria che va dai dati anagrafici fino poi ad arrivare a quelle che sono le competenze che uno ha acquisito. Una volta inserito tutti i dati ed eventualmente anche gli allegati richiesti o quelli che sono necessari per documentare il proprio curriculum basta dare l'invio e la domanda viene ricevuta automaticamente dal Dipartimento delle Politiche Giovanili. In breve quali sono i progetti Caritas? I progetti Caritas anche quest'anno sono su tre aree quello della povertà educativa, quello del disagio adulto e quello di una educazione alimentare quindi spendiamoci bene, potenziamento scolastico e infine quello della speranza.